Allora, l'ho responsabile, prima di tutto la partenza che ti ha previsto. Partenza 8.30, però non si sa bene perché ci sono probabilmente gli ultimi, come sempre. Perché Albinea deve far servizio proprio oggi? Perché sono della collina. Il tuo benedetto Usai c'entra? No, c'entra il nipote, se noi lo Usai, no, il fisico. Quel megafono lì, dove lo mettiamo tra un po'? Nel baule dell'autobus. Invece Giovanni Paolo che ci ha appena interrotto passando davanti alla telecamera, era una transizione. Aspettative di Toledo, calore, sia termico che fisico delle ragazze. Wow, sono emozionatissime. A dopo. Questi ragazzi stanno giocando a dubito, un antico gioco della tradizione. A dubito, stiamo giocando al telefono senza fili. Questi ragazzi stanno giocando al telefono senza fili, un antico gioco della tradizione albinetana. La temperatura sta incrementando vertiginosamente. Questo qui che sto inquadrando però è l'orale. Toledo, la città dell'amore. Chiedo al vento, che sferza il suo lamento sulla ghiaia del giale del tramonto. Alla macca gelata, che ha perso il suo gazebo. Guaira alla stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amore? Che vive alla porta, alla guardarobbiera nera e al suo romanzo rosa. Che sfoglia senza bosa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polare. Si traccia a volte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte. In Italia siamo pronti alla morte. Si traccia a volte. Permette signorina, sono il re della cantina. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma si appoggio pure volentieri. Fino all'alba, l'irida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? E' un sesso nella scarpa. Questo è uno dei momenti preferiti della GMG. Il prossimo pensiero è il pranzo. Posto incredibile. Volevo chiedervi intanto qual è la città più famosa del Portogallo dopo Lisbona. Lisbona. Porto. Primenti, bravissimo, 10 punti. Qual è il tuo colore preferito? Molto bene, il tuo? Lisbona. Siamo qui con... Maria Valdovino. Ok, siamo a... Accademia di Infanteria del Toledo. Molto bene. Muy bien. Ieri notte com'è andata? No, stanotte è molto bene. Alla fine... Tranquilla, la tagliamo. Stanotte è molto bene. Mi sono addormentato, mi sono svegliato. Però le ore sono state molto poche. Ottimo. Adesso procediamo con quanto costa il tuo outfit. Partiamo da le scarpe. 94,30. Cazzo. Pantalone. 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 FC70. Zero. Cazzo. Maglia. Maglia dell'Aragno. 2,99. Nei cestoni. Pantalone. Cazzo. Bello questo eh. Ricontiamo cosa abbiamo fatto oggi. Così forse ci mettono il video. Siamo qui alla Peglia adesso. Siamo alla Peglia. Siamo alla Peglia. Con tutti. Mi piace di leggio. Piena. La me è piena. Sì. Piena eh. Ciao. Bello. Ciao. Ciao. Questa bella è l'occasione per accostarsi al grande uomo di Dio e sentirlo per te. È l'occasione per fare il punto della situazione sulla tua vita. Mettirti a nudo di fronte al suo sguardo d'amore e lasciarti volermene da lui. Innamo da te, chiamati per nome, che testa al Signore tu cammini con noi, ci guardi di te, per noi spezzi il pane, ti riconosciamo il cuore e adesso sei tu.